Mercoledì 27 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi. Il personaggio di Emma finalmente scoprirà cosa è successo 16 anni prima, quando sua figlia Alice è scomparsa. Figlia che, come ricordiamo, era morta ufficialmente subito dopo la nascita. All'inizio dell'episodio scopriamo che Azzurra è scomparsa. La donna è fuggita portando con sé la piccola Cecilia, sua figlia. La polizia si mette sulle sue tracce ed Emma si chiede perché l'amica abbia fatto una cosa del genere. È forse coinvolta con la scomparsa di Alice? 16 anni prima fu proprio la moglie di Roberto ad occuparsi delle pratiche dell'ospedale relative alla nascita di Alice. Emma è sempre più convinta che l'amica sia coinvolta e quindi è decisa nel trovarla. La Conti riuscirà nel suo intento e Azzurra le dirà ciò che sa. La notte in cui è stato ucciso Luigi, il padre di Sofia, Roberto era con lui. Azzurra è convinta che sia stato suo marito ad ucciderlo, ma perché il fratello di Emma avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Alla fine la protagonista avrà un confronto con il parente e apprenderà la triste verità. Ha ucciso Luigi per coprire ciò che è successo 16 anni prima. Purtroppo una delle persone a cui la Conti vuole più bene è proprio colui che le ha causato tanta infelicità perché è stato proprio Roberto anni prima a vendere sua figlia Alice. Prima di fidanzarsi con Azzurra aveva dei problemi di droga e quindi si può supporre che abbia venduto la nipotina per avere i soldi per poi comprarsi la dose. Quindi il gioielliere è stato scagionato da tutti i sospetti ed Emma è riuscita finalmente ad arrivare alla verità.